Ma tu guarda che brutti scherzo che ti fa la memoria. Quando si dimentica le cose brutte, eh? Ma la cosa più brutta è quando si dimentica le cose bene. Vado. Vado l'unicello. Vado l'unicello. Stancati, bambina, di spezzarci la schiena per 400 lire. Che manco l'umano, ci possiamo comprare sangue adeggiù. Signore giudice, si potrebbe, dico che si potrebbe, attivare l'intuazione armata ai tanghi dello store. Signore giudice, signore giudice, signore giudice, signore giudice. Oh sì, oh sì, mi piace. Insurrezione armata ai danni dello store. Finché è arrivata la Luisa con quel suo fare naif che io un po' un po' sempre anche immediato devo dire la verità e ha portato questi che bollenti che eravamo nel nostro ufficio così a pensare a pensare e ha detto beh usiamo i treni. Gli tre ma perché non ci abbiamo pensato subito no? Se la mia fa saluzza no! Sii! Se la mia dolore si baruri mi fai il nome! Arcanizziamoci! Ma mi spiegami! Non c'è mai più certo ma se poi questa ballina ci ruba... Ricordati che il tuo mare ti vuole bene hai capito? Non te lo scorda mai Valerio! Ricordati del tuo mare! Valerio! 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 E per noi è stata un'avventura! Un'emozione! Ma c'è stata tanta gente per vedere il mare per la prima volta! Ed è pur rotto! Noi bambini di San Severo siamo stati fortunati, sì! Perché in un momento di difficoltà abbiamo trovato tante porte aperte! Noi lo vedo solo porte chiusi! E penso che si avessero la prima! Per far entrare il mare! Me sova bene ho! Chissà! Grazie a tutti